vi presento angela siamo al nostro primo incontro abbiamo fatto la consulenza il test della pelle e autocura quindi abbiamo rivisto tutti i passaggi che le fa la mattina e la sera l'abbiamo ben bene analizzati visti se sono idonei rispetto al suo tipo di pelle alle esigenze e quindi raccontaci un po tu perché hai chiesto il mio aiuto e che cosa insomma hai ottenuto con questa consulenza allora sì perché avevo dei problemi di forte disidratazione e non sono mai fino ad ora riuscita a curarli utilizzando le più diverse creme che sono sul mercato quindi ho chiesto insomma a te di darmi una mano e oggi sicuramente è stata una seduta molto interessante perché sono insomma riuscita a capire quelli che sono gli errori che faccio nella mia quotidianità come iniziare già dalla mia quotidianità a poter risolvere un po i miei problemi ottimo ottimo abbiamo fatto anche un progetto per le sedute che in due o tre sedute dovremmo mettere a punto quello che è la tua problematica e quindi ci si vede presto grazie a te e buon lavoro a casa ciao